che siamo fortissimi e che tutto è possibile sono davvero stata impressionata dalla quantità di insegnanti che si sono messi in gioco da zero della passione che è stata messa in questi mesi per stare davvero a fianco dei nostri studenti che è l'obiettivo principale del nostro lavoro direi fluida, dinamica, in movimento, mutevole vedo grandi spazi aperti con postazioni e persone che si racgruppano per scopo, per passione, per interesse perché hanno qualcosa da fare in quello spazio e non semplicemente raggruppate per età Grazie a tutti